dove percorrevano il ponte dall'io al non io a cura di vb adesso era di nuovo nella scuola e davanti al maestro si avviarono verso la stanza dove percorrevano il ponte che li conduceva nei piani di esistenza più sottili egle attraversava quel ponte in modi diversi secondo i suoi stati d'animo ma durante la meditazione non pensava quasi mai a se stessa tanto che all'inizio si meravigliava di avere raggiunto subito l'astrazione del mondo fisico solo molto tempo dopo sentì che la meditazione le era di solito favorevole perché l'assentarsi da se stessa le era divenuto naturale favorevole in che modo nell'unico modo possibile egle evadeva in una unità inimmaginabile dove la separatività io tu tu io era superata e lei si fondeva in una realtà che aveva colori simili e suoi che non erano mai oscuri o grigi ma gialli di un giallo color oro chiari luminosi le cui vibrazioni la espandevano ancora in altri esseri egle pensava così mentre il maestro si era voltato verso una donna che si era affacciata sulla porta le fece scenno di entrare la donna era minuta e aveva un'aria intellettuale strinse forte la mano di egle questa amica si chiama morena di secca laco e oggi mediterà con noi si sedettero sui tappetini vicino alla stufa morena si era posta di fronte ad egle e la guardava intensamente rigida con le mani intrecciate in grembo pareva stranamente a disagio a un cenno del maestro iniziarono la meditazione egle pronunciò nell'intimo la sua invocazione e per unirsi a morena che avvertiva sofferente invocò le sue guide con la sua frase maestri come vi amo in morena se ripeteva più volte questa frase egle metteva in discussione nei suoi corpi superiori le categorie che le usava normalmente come pensare ragionare dedurre e affondava in una spirale in cui entrava in una unione ineffabile con la persona che aveva nominato era possibile era possibile perché avveniva egle si espanse nel suo intimo fino a che sconfinò in morena che meditava di fronte a lei era una conoscenza che superava tutte le sue conoscenze e insieme le includeva tutte e tutte si aggiornavano nel suo sconfinamento in morena a quel punto l'essere egle si pose di fronte alla scelta se sprofondare completamente in un essere più vasto che in quello stato si chiamava essere egle morena o rimanere l'essere egle era una scelta che non poteva essere assorbita da nessuna delle categorie della mente che egle possedeva al di fuori della meditazione non fece questa scelta perché la sua mente non lo permise quando egle al termine della meditazione poté comunicare con morena per via umana seppe che anche morena si era posta in ascolto del suo essere che le apparve invaso dall'essere egle morena disse che mai questa invasione aveva avuto a che fare con ciò che lei conosceva prima di quella meditazione e anzi che era precipitata dentro un nuovo apprendimento che esigeva il superamento dei suoi concetti precedenti che cosa intendi per concetti precedenti chiese egle morena arrancò nella risposta fino a che intervenne il maestro calaco che spiegò una domanda più facile è che cosa succede quando ci immedesimiamo nell'altro la risposta è sempre soggettiva ed è l'osservazione che fanno di se stesse le persone che sono giunte a questo punto della meditazione si chiedono che cosa gli sta succedendo e nello stesso tempo si accorgono ed è questo l'avanzamento che non è più la loro mente a possedere completamente ciò che gli succede io continuo a non capire lo interruppe egle io so che nel momento in cui mi sono immedesimata in morena chiamiamola immedesimazione sono entrata in una meraviglia per ciò che mi succedeva non era la meraviglia di cui normalmente si parla ma era un continuo benessere non ho provato una meraviglia statica ma una meraviglia sempre più raffinata era uno stato di coscienza più avanzato dell'immedesimazione in una sola persona a me è sembrato così ti ringraziamo disse il maestro ma devi sempre tenere presente che questa è stata la tua via morena intanto guardava egle con una espressione estatica la tua via morena intanto guardava egle con la tua via morena intanto guardava